Ciao a tutte e benvenute in un mio nuovo video. Oggi vi voglio mostrare cosa ho voluto prendere da motivi in sostituzione alla gonna che purtroppo mi si è rovinata. Prima di iniziare vi ricordo solamente se vi fa piacere di supportare il mio canale iscrivendovi. Se vi va seguitemi anche su Instagram e su TikTok. Ora iniziamo subito così vi mostro cosa ho voluto prendere. Allora sono stata da motivi dopo neanche 24 ore dall'acquisto e tre neanche quattro ore di utilizzo della gonna purtroppo dico purtroppo perché a me la gonna piaceva tantissimo mi piaceva anche come mi stava considerando i micchini in più notavo che comunque non mi ingrossava. Mi è dispiaciuto sostituirla ho verificato la foto come vi avevo mostrato nel video precedente c'era già un taglietto successivamente il taglietto si è ingrandito e si era sollevato proprio un pezzo di ecopelle quindi l'ho dovuta sostituire. Ho trovato una ragazza che non era la ragazza che me l'ha venduta estremamente gentile che ha detto che non ci sarebbero stati alcun tipo di problemi l'ha verificata visto che era un capo fallato e voleva ordinarmi la medesima gonna o in taglia 46 o in taglia 48 non me la sono sentita di riordinarla quindi ho deciso di lasciar perdere con la gonna mi aveva detto che aver avuto la possibilità o di tenermi la gonna e di verificare altri arrivi oppure di sostituirla. Non volevo la responsabilità di tenere la gonna a casa ho deciso di sostituirla e ora vi mostro cosa ho deciso di prendere. La gonna mi sembra che venisse 59 euro per fortuna non mi sono persa la possibilità del buono ho provato altre due tre cose vi avevo già detto che avevo provato tanto quindi sapevo già cosa mi poteva piacere no la ragazza è stata molto disponibile dall'interno mi ha portato altre cose da provare e alla fine ho voluto scegliere questo maglioncino che vi sto mostrando in questo momento estremamente comodo e confortevole indosso non punge e voi lo sapete ve l'ho detto più volte che io non amo le cose che pungono proprio io sto malissimo la lana se sulla pelle deve essere morbida questa non è lana come vi ho detto più volte a parte i cardigan che appartengono alla categoria proprio invernale non amo acquistare cose prettamente invernali mi piace di più acquistare cose che posso utilizzare tutto l'anno che abbiano molteplici funzioni e utilizzi questo maglioncino secondo me riesco a sfruttarlo un tantino in più rispetto a un cardigan o maglione proprio in lana perché ha una pesantezza giusta e mi piace tantissimo questa fantasia a righe che riprende con un tono più chiaro la felpa che vi ho mostrato che ho acquistato da oltre le maniche sono per giunta le maniche che piacciono a me a sbuffo e ha nella parte terminale questi spacchetti secondo me molto eleganti comunque mi è piaciuto tantissimo ho voluto prendere la taglia e le veste molto piccolo veniva a costare se non ricordo male 49 euro quindi 10 euro e meno della gonna ho dovuto scegliere dell'altro all'inizio stavo guardando una cintura ma non mi piacevano poi stavo guardando degli accessori e non me ne facevo niente e ho voluto prendere questi manicotti che io odi già ma comunque possono essere sempre utili anche questi non pungono li che ho io ho uno in lana nero e un altro che non so non mi ricordo più dove ho messo di denny rose sempre nero comunque voluti aggiungere per raggiungere la cifra e ho aggiunto se non ricordo male intorno ai 9 euro tutto qua quindi questa è stata la mia sostituzione mi spiace ripeto perché la gonna mi piaceva tanto però se in tre quattro ore è diventata così non oso immaginare utilizzandolo un po di più come si sarebbe ridotta quindi ho preferito lasciar perdere il video quindi i miei acquisti termina qui ho voluto prendere giusto queste due cosine io da motivi da oltre questi negozi qua che in effetti hanno un rapporto qualità prezzo un po altino un po sproporzionato ho deciso di non acquistare se non durante i saldi o quando appunto dei punti da scalare per cose che hanno un buon rapporto qualità prezzo a me piace molto zara stradivarius e berska e cnm malgrado ultimamente dai cnm sto trovando molto meno prima trovavo dei vestitini carini che ho tuttora conservati in perfette condizioni ultimamente sto trovando un po di meno il mio video comunque termina qua io come al solito vi lascio al mio outfit e poi ci rivediamo così vi mostro gli accessori che porto questo è il mio outfit di oggi sempre sportivo oggi ho voluto abbinare questa camicia nera con i pantaloni immaculati di motivi sono modello cargo con il tascone e le scarpe sono le scarpe nike che io utilizzo normalmente per andare in moto infatti oggi siamo in moto come borsa ho questa borsa di francesca lecca piccolina e poi abbiamo lo zaino ovviamente da moto e il giubbotto nella versione estiva sempre da moto però ce lo dirà quindi in questo momento non ve lo mostro basta questo è l'outfit mio di oggi vi lascio la parte rimanente del video così vi mostro gli accessori che ho ed eccomi qua pantaloni avete visto li ho bloccati in una maniera con la quale sto bloccando anche determinati jeans quando sono molto larghe li voglio mettere all'interno degli stivali adesso voglio cambiare l'inquadratura e mostrarvi che cosa faccio un piccolo trucchetto pantalone rimarrebbe così largo che non è male come pantalone mi piace ma va a toccare la scarpa e si va un po a piegare quindi a seconda delle scarpe che ho faccio così i pantaloni nascono in questa maniera considerando che io come vestibilità di bacino ho necessito di una taglia grande quindi in questo caso di una 46 ma di gambe soprattutto questo livello qua che caviglia non l'ho grossa neanche il polpaccio quindi mi giocano un po di più e non mi piacciono perché poi vanno a rimborsarsi sulla scarpa allora oggi ho fatto così ho fatto la piega e poi ho preso le due parti e le ho sovrapposte in questa maniera facendo questa piccola pens e ho infilato una semplice forcina ovviamente dovete stare attenti che la forcina abbia la parte in plastica terminale e ho agganciato le due pens che ho precedentemente fatto in questa maniera io ho tenuto una una gamba un po più sciancrata quindi con questa piccola pens che è molto più bella fatta dietro stamattina io avevo fretta e quindi l'ho fatta l'ho ricreata sul davanti la potete fare sul davanti la potete fare lateralmente a parer mio nel retro se riuscite e avete poco poco più di tempo rimane molto più bella perché la pens rimane dietro e qua davanti rimane più lineare però insomma il risultato avete visto non è comunque male anche se portata avanti questo quindi è il risultato finale e adesso vi mostro come blocco invece le maniche adesso vi voglio mostrare anche se ve l'avevo già mostrato come blocco le maniche delle camicie allora le camicie hanno normalmente uno o due bottoni se io arrotolo la manica adesso si è tutta grinzita se arrotolo la manica per diciamo lavorando muovendomi la manica tende a sciogliersi soprattutto un tessuto del genere e tende a scendere invece io ho escogitato questo sistema oggi ho voluto mettere un laccetto più grosso che ora vi mostro normalmente metto i laccetti in silicone avevo questo laccetto di miniso perché una scatolina con questi laccetti piccolini per fare le codine e ho deciso di mettere lui quindi io faccio entrare l'elastico nell'asolina faccio un cappiolino e mi ritrovo questo cappiolino che blocco al bottone in questa maniera qua quindi io portando la manica su la posso bloccare posso piegare e mi rimane ferma questo è un sistema che sto escogitando già da parecchio tempo con il quale io mi trovo estremamente bene vi ho voluto mostrare queste due piccole chicche non ho inventato l'acqua calda due semplici cose che fa sì a seconda della scarpa che metto per quanto riguarda il pantalone l'ho fatto anche con un paio di jeans e mi è piaciuto tantissimo e le camicie io le sto bloccando così da parecchio tempo in questo caso l'ho fatto per portarle su ma ho delle camicette che rimangono con la manica corta che arriva fin qui avendo io ingrassato soprattutto nelle braccia non mi chiudeva più il bottoncino quindi o lo lascio aperto oppure utilizzo questo sistema qui se rimane un po più tre quarti per rimborsarla ricambio l'inquadratura così possiamo terminare il video tra l'altro stamattina ho fatto in velocità mi sono praticamente sistemata gli elastici e l'orlo nell'ascensore io sono sempre di corsa e poi stamattina ho fatto la doccia in velocità perché ho spento le cinque sei sveglie che metto ogni mattina e non le ho sentite le ho praticamente spente e mi sono svegliata alle otto un quarto e alle nove dovevo già essere fuori casa infatti il trucco per quanto io lo faccia sempre semplicissimo non è un granché allora per quanto riguarda ciò che porto nelle labbra è un rossetto della collezione se non ricordo male holiday james ed è nella tonalità 02 che vi mostro allora questo colore leggermente metallico a me non piace l'ho voluto mettere perché io ve l'ho detto prima di fare i video mi piace avere un po di colore proprio questo effetto metallico non mi piace però io sono abituata a tutte le cose che acquisto anche se sono tante le utilizzo sempre non mi piace sprecare io i cosmetici li vendo ovviamente perché sono usati ma normalmente le cose da vestire che io non utilizzo non le lascio mai ferme e le vendo sono fatta così a me piace proprio sfruttare tutte le cose che acquisto per quanto riguarda gli accessori o la collana con la piastrina di pandora quella di ops con l'iniziale e quella con il mio nome in oro giallo per quanto riguarda invece gli anelli ho sempre l'anello dodo 100 per cento amore questo di pandora che sto utilizzando come ferma anello questo con la piastrina makeup artist di rerum che mi piace tanto l'orologio in rose la collana che ho adibito a bracciale di dodo sempre in rose le mie due fedi qua ho sempre il mio anello ti amo i love you qua ho le polluocce tutti i braccialetti che mi vedete ormai da tempo basta per quanto riguarda gli orecchini gli orecchini ho sempre loro comunque ho voluto lasciare questi due cerchietti di luca barra in acciaio dorato questo il primo di luca barra in acciaio e questi due dietro di stroili per quanto riguarda gli occhiali sono i ray ban il modello e aviatore e la misura e la large cioè la 62 la montatura è dorata con questa barra tra il rose e nude quindi vi ho mostrato tutto la borsa è questa di francesca lecca mi sono scordata a casa il profumo sto utilizzando cashmere di equivalenza quindi il mio video a questo punto termina qua fatemi sapere se vi è piaciuto il maglioncino che ho voluto prendere in sostituzione alla gonna io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video ciao a tutte e buona serata